Buonasera, facciamo questo video per fare chiarezza sul tema della palestra della scuola Colombo Antonietti. Spesso ultimamente abbiamo sentito delle voci da parte di cittadini, oppure visto scritto su alcuni social dei post riguardo questi ritardi. Molti hanno fatto illazioni su vari temi, la verità è solo una. La verità è che questo progetto è stato modificato rispetto al vecchio progetto della presente amministrazione per renderla adatta allo svolgimento di alcune partite di pallavolo. Quindi l'altezza interna è stata modificata, è stata alzata e ciò ha reso necessaria una modifica del progetto, una modifica del calcolo strutturale di tutto il progetto. Quindi siamo in attesa di questa modifica, dopodiché i lavori ripartiranno immediatamente. Faccio anche un piccolo commento su alcune cose che sono state scritte da alcuni consiglieri comunali che citano voci o illazioni presunte. Io ricordo che sono consiglieri comunali, quindi hanno accesso a tutti gli atti presenti in comune, possono verificare che quanto ho detto e quanto sto dicendo è vero. E quindi, ripeto, vorrei tranquillizzare loro, ma soprattutto tutti i cittadini, tutti gli alunni e i professori della scuola media che sono coinvolti in questo lavoro. Grazie, grazie Marcello. La puntualizzazione è doverosa. Ci si stupisce che chi ha chiesto in Consiglio Comunale la modifica del progetto, perché era stato fatto male in precedenza e quindi adeguare le altezze, non comprende il fatto che per fare questo c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di un approfondimento anche dei costi. E per poter portare avanti il lavoro e il progetto questo è necessario. Siamo presenti, abbiamo rispettato il primo step che ci eravamo dati, che non era scontato, l'abbattimento prima dell'inizio della scuola. E l'abbiamo fatto, abbiamo iniziato i lavori, stiamo adeguando il progetto, lo stiamo portando ad un progetto sostenibile sotto il profilo economico e anche di utilizzo. e mi sembra molto strano che alcuni ex amministratori, addirittura attivi fino a qualche mese fa, e alcuni dell'opposizione, ma assessori in precedenza, non conoscono le dinamiche di questi progetti, di questi passaggi. Quindi siamo fiduciosi che presto riusciremo a ripartire con i lavori e siamo anche fiduciosi, e su questo stiamo lavorando, è il nostro obiettivo di portare a compimento i lavori prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Grazie, grazie Marcello, grazie per l'impegno tuo e di tutta la Giunta. Grazie.